La Grecia sacrificia, la Grecia sacrificia, siamo un paese che ha vissuto bene consumando la ricchezza accumulata in passato, ci siamo sentiti molto in difficoltà, ci siamo sentiti molto in difficoltà, che pochi facioli, anzi volevo dire un facioli, ci siamo sentiti la Grecia, ci fossero almeno tre facioli a testa, siamo un paese che ha vissuto bene in difficoltà, ci siamo sentiti molto in difficoltà, ci fossero almeno tre facioli a testa Il rischio molto concreto, consumando la ricchezza accumulata, consumando la ricchezza davvero non ci sarebbero stati presto nemmeno i soldi per pagare gli stipendi la ricchezza accumulata consumando la ricchezza accumulata La ricchezza accumulata La ricchezza accumulata La ricchezza accumulata La ricchezza accumulata